Ebbene cari amici di Teresore News, buonasera, siamo alla Proloco Canosa per Porte Aperte. Ecco, una bellissima iniziativa che continua, questo è il terzo appuntamento, sono in compagnia con il presidente Elia Marro e ovviamente anche con il nostro dottore ospite di questa serata, Gennaro Caldarola, Gadaleta. Perfetto. E allora, caro Elia Marro, un bel appuntamento questo, tanto atteso. Un appuntamento importante, ringrazio il dottore per aver accettato il nostro invito, quindi questa sera sarà un'altra serata importante di ascolto, quindi siamo qui per ascoltare il dottore. Ovviamente parliamo con il dottore che è un oncologo, primario dell'ospedale di Miccoli di Barletta, vero dottore. Ecco, un reparto importante per questo territorio e quando si parla a voi di questa medicina, insomma, c'è sempre tanta speranza. Ecco, cosa senti dire subito ai lettori, ai nostri lettori, quando si parla di medicina e di oncologia? Bisogna aver paura o no? Assolutamente no e l'obiettivo di stasera è proprio quello di dare una versione abbastanza positiva e ottimistica di questa branca. Cioè non dobbiamo assolutamente vedere queste patologie sempre con queste definizioni incurabile, difficile da guarire. Stasera cercheremo di vedere gli aspetti positivi, gli aspetti sulla prevenzione, le innovazioni terapeutiche, perché anche in questo ambito ci sono degli aspetti estremamente importanti che vengono fuori dalla ricerca di ogni giorno. Certo, sappiamo che lei ha veramente la passione, sì, per la medicina perché è un medico, ma ovviamente ha una grande sensibilità. Abbiamo visto un po', abbiamo indagato sulla sua vita e abbiamo visto anche quanta attenzione che mette il medico, oltre ovviamente a quella che è l'innovazione, quindi le cure, ma anche essere vicino al paziente. Quanto è importante essere vicino al paziente oncologico? Io penso che la chiave di volta in questa professione sia quella di unire, di fondere sempre l'aspetto scientifico, l'aspetto professionale, cioè di garantire il meglio delle cure che noi oggi abbiamo a disposizione per quanto riguarda questo genere di patologie, con l'attenzione al paziente. Cioè io penso che questo aspetto, quello di essere attenti al paziente, di essere attenti ai bisogni che è il paziente oncologico, di informarlo, di supportarlo, di sostenerlo in questo percorso sia la parte forse più importante del nostro lavoro quotidiano. Ecco dottore, noi siamo in un territorio, dicono almeno dai dati, un po' in allarme sotto il profilo dei tumori. Ecco, cosa pensa lei di questo? Beh, sicuramente questi sono aspetti abbastanza delicati che necessitano di dati certi che noi spesso ricaviamo dal registro tumori. Noi nella nostra provincia, nella BAT, abbiamo un registro tumori. Sicuramente per alcuni tumori c'è una particolare incidenza in questo territorio, però io direi che, diciamo da questo punto di vista, dobbiamo stare sempre molto attenti a lanciare, diciamo, sulla popolazione degli allarmismi che poi alla fine non corrispondono neanche alla realtà. Ci sono tumori che si possono curare, questo è l'aspetto positivo, e ci sono quelli dove comunque la scienza sta continuando a lavorarci. Ecco, qual è la differenza appunto con le nuove, insomma, innovazioni? Beh, sicuramente per esempio nei tumori della mammella oggi abbiamo grandi possibilità da un punto di vista terapeutico. Abbiamo tenuto un congresso, diciamo, alla fine della scorsa settimana a Trani, dove abbiamo discusso proprio della terapia medica del carcere mammario. Sono venuti relatori anche, diciamo, da tutta Italia. Abbiamo fatto il punto proprio sui nuovi farmaci e su quelle che saranno anche le prospettive future su questo tipo di patologia. Ma sicuramente la prognosi per molti tumori è migliorata. Ho fatto l'esempio dei tumori della mammella, ma anche di quelli del colon, del polmone. Ci stiamo avviando in una direzione, a mio parere, abbastanza positiva nella cura di queste malattie. C'è sicuramente da lavorare ancora, però è anche vero che le cose rispetto a dieci anni fa sono cambiate. Ecco, lei, come dicevamo, è primario dell'ospedale di Niccoli, di Barletta, per il reparto oncologico. Ecco, come vive questo ruolo importante? Beh, sicuramente è un ruolo delicato. Bisogna un po' unire l'aspetto medico anche con quello gestionale. E, diciamo, il mio lavoro a me piace tantissimo. Sono entusiasta. Io ho scelto di fare questo lavoro. Nessuno me l'ha imposto. Ho scelto di essere anche vicino ai pazienti, di essere vicino anche alla sofferenza. Sono molto soddisfatto e da qualche mese avrò, diciamo, appunto il ruolo di gestire un po' tutto un gruppo, un reparto, una realtà nella nostra ASDL importante. Allora, chiudiamo questa intervista con la prevenzione. Quanto è importante e che cosa fare, soprattutto per le donne e gli uomini che magari hanno qualche annetto in più? La prevenzione è importante. Il messaggio fondamentale è quello di aderire sicuramente ai programmi di screening. E questo è, stiamo parlando di prevenzione secondaria, cioè di diagnosi precoce. I programmi di screening sono quelli riferiti ai tumori della mammella, del colon, della cervice uterina. E poi c'è tutto il discorso della prevenzione primaria, che è quella di essere particolarmente attenti ai fattori di rischio, quale può essere il fumo, l'alimentazione, l'esercizio fisico, l'obesità, l'alcol. Questi sono aspetti su cui ne possiamo sicuramente lavorare. Noi la ringraziamo, dottore, e le auguro buon convegno. Grazie. Grazie ancora al nostro dottore. E bene, cari amici, io ringrazio ancora Elia Marro, quindi l'appuntamento sempre con... Un giovedì prossimo o l'altro? Ecco, chi è l'ospite? Lo svegliamo settimana prossima. Dottore, non mi dà mai un'anteprima, dottore. Ok. Va bene, arrivederci, grazie ancora e tra poco sempre con l'informazione.